Il corso Pensa Trasversale è una iniziativa nuova, esperimentale, che viene organizzata quest'anno per la prima volta all'Università di Trento e ha la peculiarità di portare insieme nella stessa giornata le visioni delle diverse facoltà su un unico tema. Il tema quest'anno è quello della musica, naturalmente se ne potrebbero pensare altri, ne penseremo altri, se questa iniziativa si rivela di successo, come speriamo che sia, l'idea è quella di offrire le prospettive diverse e le competenze diverse delle singole facoltà attorno a un unico tema, per mostrare come un tema come quello della musica, ma come potrebbe essere, che so, il numero o la danza o qualsiasi altro aspetto che può interessare comunemente e fa parte della nostra vita quotidiana, di fatto abbia sempre moltissime sfaccettature. E queste molte sfaccettature possono essere colte aggiungendo progressivamente i punti di vista delle diverse facoltà. Questo è quello che stiamo cercando di fare, questo è quello che cercheremo di fare in questi due giorni, coinvolgendo gli studenti degli istituti superiori del Trentino.